Siamo all'aggiornamento Covid, guardiamo insieme ora gli ultimi dati aggiornati e diffusi come sempre dal consueto e quotidiano bollettino epidemiologico della regione Puglia. Nelle ultime 24 ore in Puglia sono stati effettuati 40.812 test giornalieri per l'infezione da Covid-19, registrando 8.887 nuovi casi. 20 invece sono stati i decessi segnalati. Le persone attualmente positive in Puglia sono 101.417, 587 i ricoveri in area non critica, 39 invece sono i ricoveri in terapia intensiva. Dall'inizio dell'emergenza sono 8.190 in totale le persone decedute in Puglia.